Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo preciso momento storico per quanto riguarda il calciomercato, tenendo conto appunto di questo periodo di pandemia, di coronavirus, diciamo che il concetto fondamentale è quello di occasione. I club non hanno più tanta disponibilità economica per poter effettuare investimenti molto ingenti. Stiamo vedendo anche il Barcellona che negli ultimi periodi si è approcciato ai parametri zero, vedi De Pae, vedi il tentativo per Donnarumma che sembra vicino a Presidente Germain, altra squadra che nonostante le grandi disponibilità economiche ha deciso di puntare su un parametro zero per il futuro della propria porta. Staremo a vedere quello che farà comunque con Keylor Navas, che quando venisse ceduto porterebbe dei soldi nelle casse parigine. In questo video voglio parlarvi di un giocatore che vedremo all'opera durante l'europeo collegandola anche a un nome che gioca in Italia, vale a dire Dujan Vlaovic. Dujan Vlaovic è un giocatore che la Fiorentina ha preso qualche anno fa, quest'anno veramente esploso, mettendo segnotti in prestazioni e mostrando una intelligenza tattica e una grinta fuori dal comune. Ma non è comunque di lui che voglio parlarvi, bensì di un giocatore che in un certo senso un po', che gli assomiglia, sebbene lo consideri un pochino un misto tra Vlaovic e Morata per via insomma del suo stile di gioco. Sto parlando di Adam Lojek, classe 2002 dello Sparta Praga, un giocatore che in stagione ha giocato 19 partite mettendo segno ben 15 gol e collezionando 8 assist. Nella sua carriera invece con le maide nazionale, tra quella maggiore, l'under 15, è condita di 33 presenze e ben 19 gol. Quindi, diciamo, più di un gol a partita, insomma. Un giocatore da grande fisico, alto 1,88, che però ha un punto di forza che è questa muscolatura abbastanza lunga, quindi non è un potente ragieco o pachidermico, bensì è molto mobile. Con un baricentro comunque regolare, non ha un baricentro alto, quindi lo rende anche, gli conferisce insomma una progressione molto più reattiva a vendere uno contro uno, destro di piede, sebbene comunque sappia usare entrambi in modo ottimo. Diciamo che è il classico attaccante che può essere molto funzionale sia se si gioca in un attacco a due che in un attacco a tre, sia come punta centrale che come esterno a piedi invertito o comunque magari sul lato del piede forte. Un giocatore che è molto abile, sia appunto nelle vesti di assist, come l'abbiamo visto più volte con lo Spartapraga, allargarsi sulla destra, fornendo cross, o magari accentrandosi, arretrando il proprio pericentro d'azione, aspettando l'inserimento della mezzala e per poi appunto dettare il passaggio. Questa è una cosa molto importante per il gioco di Allegri, che per anni ha cercato verticalizzazioni da Pjanic, o comunque dei centrocampisti, abbinate però all'inserimento di questi centrocampisti. Vuol dire che se un Pjanic va in verticalizzazione, con una prima punta, un Manzokic di turno, che viene incontro al pallone e riceve il pallone, deve essere comunque un centrocampista centrale, una mezzala che si va a inserire e va a occupare lo spazio. Ecco, Logiek è veramente la tipologia adatta. Un giocatore molto giovane, appunto classe 2002, il prezzo trasfermante è 17 milioni di euro, ma sicuramente è un pezzo che comunque viene a verersi a pagare di meno rispetto a un Dujan Vlaovic, che poi sia per la Juve, che sia per l'Inter, mi pare che sia interessata, che per altri club, insomma è un giocatore molto interessante, che sicuramente si metterà in luce in questi europei che inizieranno tra pochi giorni. Abile anche nel trio della distanza, quindi non è stato assolutamente raro vederlo che magari veniva un attimo uscire dall'area di rigore, prendere palline dell'area, magari raccogliendo qualche spondo, qualche passaggio basso a parte dei laterali, per poi accentarsi e andare a tirare a giro, specialmente sul secondo palo. Sicuramente ha delle forti autorizzative e questa cosa può essere ancora migliorata, perché molte volte si ha la sensazione che cerchi quasi troppo, anche quando può magari andare a concluderlo direttamente con la porta spalancata, cerca magari sempre il passaggio all'inserimento che poi per l'amor di Dio non è assolutamente niente di male, perché giustamente lui dice se io ho il 60% di segnare, c'è uno che mi porta a vuoto, che c'ha il 90%, lo passo a chi ha più possibilità, però uno che, insomma, ripeto, 15 gol in 19 partite può ulteriormente migliorare la sua mineralizzativa, perché la dote dell'attaccante è anche il rischio, è anche il cercare la porta, se appunto tu sei davanti con un 60-70% di porta scoperta, non andare magari a cercare il passaggio, ma provo a concludere, potenzialmente è un giocatore che avrebbe potuto segnare tranquillamente 19 gol in 19 partite, o 20 gol in 19 partite, quindi può ulteriormente migliorare. Per la Juve lo vedrei come ottimo acquisto, comunque, ripeto, se Allegri vuole quel certo tipo di giocatore, è ancora plasmabile appunto avendo solo 19 anni, lo prendi, lo metti lì, lo sfrutti un pochino per le sue doti diciamo di movimento nella parte offensiva del campo, però se Allegri vuole fare quel gioco, vuole una riete dell'area di rigore, Lozek, anzi scusate, Lozek è veramente un profilo adattissimo, anche perché mentre lui riceve palla, magari a mai ricevere palla più sulla trequarti campo e poi magari smistare il gioco, più, magari svilupparlo sulla fascia, più verso il centro, Vlaovic quante volte abbiamo visto orientare addirittura nella metà campo, ricevere palla, smistare, poi farsi quei 50 metri di corsa ripeto, Lozek è un giocatore secondo me veramente molto interessante, appetibile, sia da Juventus che anche per altre squadre, io parlo di Juve perché, perché ripeto, un giocatore che secondo me meno di 20-25 milioni non lo vai a pagare e chi in Italia ha la possibilità di spendere 25 milioni ma fossero anche rateizzati in dorate, 12 milioni e mezzo, magari non tutte, non lo vedrei da Lazio, anche perché Lazio ha fatto l'investimento con Murici, quindi magari ecco più da Juventus o più da Inter, perché ora siamo nell'era che devi spendere poco e puoi far crescere, puoi puntare su quei giocatori, vi ricordo Vidal, Vidal la Juve lo prese, se non mi ricordo male la prima annata di Conte e lo pagò veramente Bruscolini perché lo pagò tipo 10 milioni di euro dalla Bayer Leverkusen e poi è diventato il Vidal. La Juve di all'epoca non è la Juve di ora, va benissimo, però qualche rischio va preso perché altrimenti, ripeto, non si è più nelle condizioni economiche di prendersi il Vlaovic di turno che la Fiorentina magari all'estero darebbe per 40, te Juventus teneva a chiedere 50, 60 oppure magari 60 e più giocatori, magari non è detto che la dirigenza della Fiorentina sia disponibile a fare un'altra operazione alla chiesa, quindi un prestito biennale con riscatto obbligatorio, possono dire oh ragazzi, a me servono soldini, nell'epoca Covid vi voglio cash, quindi è facile che Vlaovic mi rimanga a Firenze. In questo caso, Adam Logec, classe 2002, dello Sparta Praga è veramente un qualcosa di ottimale. Concludo il video dicendovi, anzi ringraziandovi per l'ottimo seguito che ha avuto il mio video di presentazione su Tencop Miners che nell'ultime ore sembra che abbia rifiutato da Roma per aver accettato la corte della Dea, ovviamente vi lascio sia nelle schede che qui sotto il link del video è appunto in descrizione, spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete perché supportare questo tipo di contenuti per me è importante e ovviamente mi invoglia ulteriormente a portarmi sempre di più anche perché io, anzi a me, pare di giocatori, piace veramente tantissimo. Ti mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!